Guardiamo a te che sei, maestro e signore, chi nato a terra stai, ci mostri che l'amore e cingersi il grendiule, sapersi incinocchiare, ci insegni che amare è servire. Fa che impariamo, Signore, da te, che il più grande è chi più sa servire. La donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e ne fecero cinture. Queste poche righe, tratte dal libro della Genesi, narrano la conseguenza del peccato di Adamo e di Eva. San Giovanni Crisostomo dice a riguardo di questi primi uomini, erano rivestiti della gloria dall'alto. Il loro iniziare a peccare è il momento per capire che senza Dio nella propria vita non si riesce a vincere la fragilità umana. Sempre al capitolo terzo della Genesi si legge il Signore Dio fece all'uomo la donna tuniche di pelli e li vestì. Questo fare di Dio nel donare abiti dimostra che Lui ama le sue creature, se ne prende cura e con misericordia si accosta alla loro fragilità e alla loro debolezza umana. Guarda l'umanità e la avvolge di tenerezza e dignità. Così facendo proprio ridona la vera dignità ad ogni persona, rinata dentro il bagno della sua bontà. E quel togliere l'abito del peccato per rivestire l'abito nuovo che Dio stesso ti dona dopo esserti immersi in quell'acqua di purificazione diviene anche in te desiderio di operare come Dio, con misericordia. Quindi questa terza catechesi, proprio sulla terza opera di misericordia corporale, vestire gli ignudi, ci invita sia gesti concreti come il donare un vestito, ma non è tutto qui. È qualcosa di più grande, è esortazione a contemplare il gesto grande di Gesù che morendo in croce riveste l'uomo di misericordia. Il suo sacrificio cancella il male dalla vita dell'uomo e gli apre una via di salvezza. Questa opera di misericordia nella sua semplicità, come il gesto semplice di donare un abito, ci conduce quindi ad un'ampia riflessione. Il primo invito, dicevamo, è guardare il crocifisso. Il sangue di Cristo ci lava dal male e, grazie a questo sacrificio, si riversa sull'umanità una vita nuova. Sulla croce Gesù emise lo Spirito e proprio in quell'ultimo suo respiro molti padri della Chiesa hanno visto il momento dell'effusione dello Spirito Santo per il dono di una vita rinnovata. Maria e Giovanni hanno raccolto quell'ultimo respiro e lo hanno fatto pure per noi. Questo respiro, che come osserva Sant'Ireneo di Lione, era stato come estromesso dall'umanità a causa del peccato, ora, proprio grazie a Gesù, abitando e riposando su di Lui, si è abituato a vivere nuovamente all'interno degli uomini. Lo Spirito, operando in noi, ci riveste di un abito nuovo. Lo Spirito ogni giorno ci sorregge in quella via che ci aiuta a percorrere con quell'abito bello, luminoso, di cui risplende proprio l'uomo amato e riconciliato con Dio. È l'abito bianco del battesimo, ricevuto proprio per iniziare una vita in comunione con Dio, una vita da figli di Dio. Lo Spirito, dono del Cristo morto e risorto, dal momento del battesimo, lavora dentro la vita di ciascuno di noi per ridonarci la dignità di figlio e rivestirci di un abito bianco, l'abito della luce, l'abito che parla di noi e parla del nostro bene, l'abito che ci ridona quella gloria di cui erano abitati i nostri progenitori, Adamo e Eva. Viene detto a chi riceve il battesimo, sei diventato nuova creatura, ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato, dalle parole, dall'esempio dei tuoi cari, porta la senza macchia per la vita eterna. Lo spiega bene Papa Francesco il significato di questo abito battesimale in una sua catechesi sul battesimo. La veste bianca, mentre esprime simbolicamente ciò che è accaduto nel sacramento, annuncia la condizione dei trasfigurati nella gloria divina. Che cosa significhi rivestirsi di Cristo? Lo ricorda San Paolo, spiegando quali sono le virtù che i battezzati devono coltivare. Scelti da Dio, santi amati, rivestiti di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. Proprio così ci chiede di essere Gesù, abitato dal suo spirito, resi capaci di sentimenti di amore, tenerezza, bontà, perdono. Possiamo così avvicinarci al fratello e aiutarlo a mantenere l'abito bianco, l'abito battesimale e solo così si è pure abilitati con nel cuore questi sentimenti a donare e a fare indossare il vestito che ripara il fratello dal freddo. Ricordiamo qui il bel gesto di San Martino che offre metà del suo mantello al povero e lì, in quel volto del povero, vedrà poi Gesù. Come stiamo appunto dicendo, l'abito non è solo per ripararsi dal freddo, ma porta con sé un significato maggiore. E così si è espresso il Cardinal Ravasi spiegando il significato della veste. Bisogna risalire al simbolismo diffuso in tutte le culture della veste. Essa non ha solo funzioni concrete nei confronti del clima o di decenza riguardo al pubblico, ma rivela anche un aspetto emblematico, estetico e sociale. Si pensi solo alla funzione fin esasperata della moda ai nostri giorni. Anzi, l'abito da cerimonia è spesso indizio di una dignità civile o religiosa. E' ciò che accade per i paramenti sacerdotali, la corona e lo scetro reale, la fascia del sindaco e così via, tant'è vero che per indicare l'accesso a una carica pubblica parliamo di investitura. In una parabola di Gesù narrata da Matteo, il capitolo 16, sentiamo queste parole. Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito anuziale? Una parabola che vede gli invitati al banchetto di nozze rifiutare l'invito. Il re, che aveva preparato questo banchetto, mandi i servi a chiamare altri invitati. Così, usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. E' l'invito di Dio ad entrare nel suo regno, accogliendo già da ora la sua parola, perché Dio vuole che il Vangelo sia predicato a tutti e che a nessuno sia preclusa la via della salvezza. L'accesso a questo regno è per tutti, ma ad una condizione, indossare l'abito bianco. Il re entrò per vedere i commensali e, scortuntale che non indossava l'abito anuziale, ordinò ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. La sarà pianto e stridore di denti. Per essere quindi ammessi alle nozze eterne dell'agnello, in cielo, non basta appartenere alla Chiesa, ma è necessario indossare la veste enuziale della grazia santificante, essere abitati dallo Spirito Santo. La veste enuziale rappresenta quindi una buona vita cristiana, una vita che sa praticare il comandamento dell'amore. solo così potrà beneficiare effettivamente del dono della salvezza portata da Gesù. E ancora, il Cardinal Ravasi ci viene in aiuto per capire che l'essenza dell'abito anuziale nel protagonista di questo racconto evangelico è indizio ben più grave di una semplice carenza di educazione. È la privazione di quelle opere qualità morali che possono ammettere al regno di Dio e al suo banchetto. Non è sufficiente la vocazione a un compito, i chiamati. Bisogna anche adempierlo con fedeltà e impegno così da diventare eletti, cioè ammessi alla festa finale. Alla festa finale è ammesso chi ha saputo onorare il corpo di Cristo. San Giovanni Crisostimo ci guida in questo ultimo pensiero. Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra, cioè nei poveri, privi di panni per coprirsi. Non onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri quando soffre per il freddo e la nudità. Il corpo di Cristo, che sta sull'altare, non ha bisogno di mantelli, ma di anime pure, mentre quello che sta fuori ha bisogno di molta cura. Che bisogno c'è di adornare con veri d'oro il suo altare, se poi non gli offri il vestito necessario? Che guadagno ne ricava? Egli, se vedessi uno coperto di stracce, intirizzito dal freddo, e trascurando di vestirlo, gli innalzassi colonne d'oro, dicendo che lo fa in suo onore, non riterrebbe forse di essere beffeggiato e insultato in modo atroce? Dico questo non per vietarvi di procurare tali addobbi a redi sacri, ma per esortarvi a offrire, insieme a questi, anche il necessario aiuto ai poveri, o meglio, perché questo sia fatto prima di quello. Non chiudere il cuore al fratello che soffre, questo è un tempio vivo più prezioso di quello. Il fratello è sempre un tempio vivo per ascostarci e rivestirlo con abiti di delicatezza e tenerezza. E ti vediamo poi, maestro e signore, che la vi piedi a noi, che siamo tu e creature, e ci insegni che servire e regnare. Fa che impariamo, signore, da te, che è più grande e chi più sa servire, chi si appassa e chi si sa che è grande, perché grande è soltanto l'amore. Grazie a tutti.